L'emozionante Circo Sandra Orfei torna a Palermo! Dal 7 dicembre al 21 gennaio, presso il Centro Commerciale Forum, potrai rivivere le meravigliose attrazioni del circo che continua a stupire. Tigri, leoni, cammelli, numeri di alta scuola e l'imperdibile numero equestre di Claudio Vassallo renderanno lo spettacolo unico al mondo. Orario spettacoli feriali 17.30 e 21 e festivi 17.30 e 19.30. Visita lo zoo la domenica e i festivi dalle 10 alle 13. Circo Sandra Orfei, al Forum dal 7 dicembre, il circo che illumina Palermo!